Latte sintetico per combattere il cambiamento climatico? Abbiamo già trattato in vari argomenti che i cambiamenti climatici esistono da sempre e che sarebbe utile staccare la spina dai continui allarmismi per mettere paura alla popolazione ormai ubbidiente come pecorelle che si lascia indurre in tentazione e dà il consenso a tutto quello che il marcio regime impone. Questo che vedete è un articolo del 25 novembre 2022 dal titolo Il latte sintetico promette di combattere il cambio climatico. L'articolo inizia così. Oltre l'80% della popolazione mondiale consuma regolarmente latte e o altri prodotti lattiero caseari, nella maggior parte dei casi quotidianamente. Il latte è un bene essenziale soprattutto per le comunità dove possiedono un animale in grado di fornire latte rimane una benedizione. Nota del traduttore. E nelle città? Perpetuando una dipendenza le cui origini risalgono almeno al Neolitico Antico secondo gli ultimi ritrovamenti. Nota del traduttore. Mi piacerebbe vedere capire gli ultimi ritrovamenti del Neolitico Antico. Per chi segue il Canal 104 Plus lo scorso dicembre 2023 abbiamo affrontato l'argomento latte a cui potete accedere attraverso il fornito indice alfabetico alla voce. Latte fa bene? Mi sono chiesto ma come si arriva ad ideare di creare un latte sintetico? Ricordate che nella descrizione del video trovate tutti i link delle pagine che vi mostro per chi è desideroso di indagare e non si fida di quello che dico. Ovviamente entra in gioco la medicina. Come sempre l'articolo che vedete qui risale a due mesi prima ovvero al 6 ottobre 2022 pubblicato dal National Library of Medicine e il titolo è Riscaldamento globale e bovini da latte. Come controllare e ridurre le emissioni di metano. Non è mia intenzione spillare il vostro prezioso tempo su tutto quello che si può leggere in questi articoli. Pertanto vado ai punti essenziali. La dieta può ridurre le emissioni di metano. I cereali abbassano il pH del rumine, aumentano la produzione di proprio nato e diminuiscono la resa di CH4 e il metano. La produzione di metano per unità di produzione di latte corretta dal punto di vista energetico si riduce con una dieta ad alto contenuto energetico. Il bromoformio bioattivo scoperto nell'alga rossa Asparagopsis taxiformis riduce la produzione di metano intestinale del bestiame inibendo nella produzione. Come fanno a modificare la dieta? Esattamente come scritto qui. Ridurre il foraggio nella dieta per concentrarlo nei rapporti, incorporare nella dieta modifiche del rumine e antagonisti del metano come il bromoformio o altri fitocomposti o aumentare il contenuto di olio nella dieta sono tutte alternative nutrizionali per la mitigazione del metano. Accidenti, ho letto bene? Incorporano il bromoformio. Vediamo una scheda in italiano della CHEMOS perché non ho trovato quello che andiamo a vedere fra poco in lingua inglese. Numero di registrazione. Questa informazione non è disponibile. Interessante. Prodotto dalla CHEMOS GmbH e CO KG in Germania. Servizio di informazione in caso di emergenza. Solo cinque giorni alla settimana. Pertanto se avete un'emergenza dal venerdì alle 12 al lunedì mattina alle 8 siete fottuti. Passiamo alla pagina 2. Nocivo se ingerito. Vediamo sulla tabella della PubChem cosa dicono del bromoformio. Il bromoformio appare come un liquido in colore con un odore simile al cloroformio. Più denso dell'acqua, densità 2,9 grammi per centimetro cubo e leggermente solubile in acqua. Quindi affonda nell'acqua. Non infiammabile. Tossico per ingestione, inalazione e assorbimento cutaneo. Rileggo. Tossico per ingestione, inalazione e assorbimento cutaneo. Un lacrimatore utilizzato come solvente per produrre prodotti farmaceutici. Bene gente, adesso sapete cosa ingerite quando bevete il latte che acquistate nei supermercati. Se il latte sintetico decolla veramente, il problema più grande sarà se potrà essere ridotto in polvere e utilizzato nella gamma degli ingredienti quale additivo come i solidi del latte che si trovano in molti alimenti modificati. Non credo che la maggior parte dei consumatori si chieda da dove provengano i solidi del latte dei loro Kit Kat. Prima di chiudere vi ricordo che collaboro sempre con l'esclusivo Canal 104 Plus Telegram dove vi invito a prendere visione delle tematiche decisamente importanti e, ma solo se vi va, è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Grazie!